Con il rito delle palme, domenica prossima, entriamo nella settimana santa. In proposito, vi ricordiamo che la nostra emittente avrà numerosi collegamenti in diretta per seguire gli eventi e le celebrazioni più importanti. Sabato sera, a partire dalle 21, seguiremo in diretta da San Petronio la celebrazione per la giornata mondiale della gioventù. Tre invece sono gli appuntamenti dalla cattedrale, giovedì santo, venerdì santo e domenica di Pasqua, sempre alle 17.30. Saremo in diretta per i riti del triduo pasquale, giovedì alle 21, in luogo della consueta puntata di 12 porte. Andrà in onda invece uno speciale con le immagini più belle della via Crucis, realizzata dai giovani a Sydney, in occasione della giornata mondiale della gioventù.